Tartarughe Ninja della IDW numero 5 Continuiamo la nostra ritrospettiva per i nostri eroi con la corazza Wabalaba dab dab e bentornati sono Mammazzo Bentornati nella rubrica settimanale Spero che continui a rimanere settimanale Tartarughe Ninja in cui vi parlo dei vecchi numeri Dal numero 1 al numero 49 Giusto per recuperare un po' tutti i numeri di cui non ho mai parlato Questi numeri sono stati editi da IDW nel 2001 Dal 2011 ovviamente in America E qui da noi due anni dopo sono stati acquisiti da Panini Comics Che continua a pubblicarli adesso con cadenza bimestrale Il costo attuale però appunto è quello di circa 8,90, 10,90, 12,90 a seconda del numero I numeri non sono più di 46 pagine ma sono di 112 pagine Quindi il costo può essere anche vagamente giustificato E non li trovate più in edicola ma li trovate in fumetteria Se come me siete cresciuti con le Tartarughe Ninja dovrebbero piacervi anche i Ghostbusters Sapete che in questi giorni sono usciti al cinema di nuovo con Ghostbusters Legacy Vi consiglio di andarlo a vedere Ieri ho fatto una recensione no spoiler sempre sul mio canale YouTube E domani uscirà la recensione spoiler Vi consiglio di guardarle se vi piacciono anche i Ghostbusters Quindi vi invito anche a iscrivervi al mio canale Mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Di condividere il video con tutte le persone che amano le Tartarughe Ninja e i Ghostbusters E di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo numero Come il numero scorso anche questo numero si divide in due parti Nella prima parte c'è una storia dedicata esclusivamente a una delle nostre Tartarughe Ninja Si concentra questa volta su Donatello L'altra volta è stato Michelangelo I primi numeri erano su Raffaello E adesso ci si concentra su Donatello Mentre la seconda storia va a parlare di tre storie parallele Nella seconda storia ci sono tre trame parallele Una appunto ci mostra cosa succede nella base delle Tartarughe Ninja Dopo che arrivano i Mauser che abbiamo visto nello scorso numero Parallelamente vediamo April O'Neil e Casey Jones che si conoscono Iniziano a studiare insieme April dare ripetizione a Casey Jones E Casey Jones in cambio allena April Le insegna un po' di autodifesa ecco La terza trama invece vede Michelangelo e Raffaello che fanno amicizia Perché vi ricordo che in questa saga Raffaello è stato da poco ritrovato Si era smarrito per un anno mentre i suoi fratelli lo cercavano Michelangelo e Raffaello vanno in giro a comprare Diciamo la pizza a comprare Nel senso che vanno da un amico di Michelangelo Che gli passa le pizze sotto banco La cosa interessante di questo numero è che parla proprio Un po' del senso di solitudine del nerd Donatello dei quattro fratelli è il genio del gruppo È il meccanico del gruppo È quello che con i rottami che trova nelle fogne riesce a costruire aggeggi al limite della fantascienza Quindi è un grande appassionato di tecnologia Di tutto ciò che è macchina Di tutto ciò che si può costruire Di tutto ciò che si può spiegare con la logica E proprio per questo ha anche tutte le varie Incarno un po' tutte le varie passioni Che sono comuni ai vari nerd Per esempio notiamo come all'inizio del numero lui si trovi a chattare online Perché come ogni nerd che si rispetti si sente un po' diverso dai propri fratelli Lui ama i suoi fratelli, ama la sua famiglia Ma come ogni nerd che si rispetti sente un certo distacco Una certa diversità dagli altri Oltre alla diversità che la loro famiglia stessa sente rispetto al mondo Dato che sono dei mutanti Qui vediamo come lui all'inizio ha dei momenti con la propria famiglia Ma ha anche degli altri momenti dove un po' sta bene da solo Un po' è semplicemente lasciato solo Perché gli altri si rompono le palle a seguire i suoi interessi Che sono interessi solo suoi Qua vi faccio vedere alcune chicche degne di nota Vediamo che Donatello sta chattando E vediamo come nomi Beta George che è il nome del pesce telepatico di Angel Di Angel a fumetti Quello che abbiamo parlato nella sesta stagione del pesce telepatico che collabora con Gun E si chiama Beta George Mentre il nickname di Donatello è Daz Machine 84 Daz è una contrattura della terza persona singolare Daz Perché nella sigla dei cartoni animati del 1987 C'era la descrizione Donatello Daz Machine E il 1984 è l'anno di creazione dei fumetti Di Eastman e Light Quindi i fumetti originali Quelli che hanno ispirato il cartone dell'87 Mentre un altro Diciamo un suo troll Che poi scopriremo chi è Si chiama Kirby Fan 01 Kirby è Jack Kirby Uno dei miti di Eastman e Light Anzi forse anche il motivo Che ha sancito la loro amicizia Uno dei due aveva un disegno autografato di Kirby E questo ha fatto capire all'altro Quanto potessero essere amici Questi due fumettisti Che poi hanno creato le tartarughe ninja Ultimo ma non meno importante Abbiamo anche nella chat Il professor Jordan Perry Il professor Jordan Perry È lo scienziato che in Tartarughe Ninja 2 The Secret of the Us Ha aiutato Prima su costrizione Ha aiutato Shredder a creare Tocca e Rasar E poi una volta liberato dalle tartarughe ninja Li ha aiutate a creare un antimutageno Vediamo che Donatello va a una fiera high tech Dove c'è questo scienziato geniale quanto lui Che si chiama Harold Laila Io non ho mai capito bene come pronunciare il suo nome Quindi se sbaglio scrivetemelo qua sotto Che crea delle cose spaventose Spaventose in senso che sono davvero fantascientifiche Un macchinario che fa levitare la materia Lo stesso macchinario permette anche di rendersi intangibile Tutti progetti che vengono scartati Dai passanti perché lo considerano un ciarlatano Lo considerano questi progetti trucchi di magia Quando in realtà lui ci ha messo davvero della scienza E questo lo fa anche arrabbiare non poco E ci fa vedere quanto questo personaggio sia burbero e irrascibile Però non passa inosservato agli scagnozzi Della stock gen di Baxter Stockman Che invece vogliono vedere i suoi progetti E vogliono appropriarsene Che lui lo voglia o meno Donatello che è rimasto affascinato da questo personaggio Lo segue per vedere dove gli scagnozzi di Baxter lo portano E riesce appunto a salvarlo Quando Baxter Stockman vuole Diciamo prendere con la forza Le sue invenzioni Un contratto per la genialità di Harold Lyle Vediamo come alla fine quando Donatello lo salva Harold è comunque burbero e irrascibile anche con lui Che dimostra quanto possa essere poco socievole Ciò nonostante Nonostante si congedino con grande freddezza Si scoprirà Innanzitutto Donatello scopre che Kirby Fan Che era il suo troll della chat È proprio questo Harold Lyle E quindi continuano a litigare nella vita reale Ma poi nell'epilogo finale Quando Donatello continua a sentirsi solo Perché magari la sua famiglia non gioca con lui A un videogioco online Quando Leonardo sta per sacrificarsi E fargli compagnia Perché da bravo leader Capisce le esigenze dei suoi fratelli Ecco che Kirby Fan si fa vivo in chat E dice ok Facciamo amicizia Cioè sancisce questa amicizia Davvero nerd La sancisce virtualmente Mentre appunto nella seconda storia Vediamo come c'è il generale Krang Che noi abbiamo già Anzi qua in questo numero Scopriamo Scopriamo Il segreto di Pulcinella Che anche in questa In questo reboot Il generale Krang È un cervello Un cervello che sta in un corpo meccanico Noi lo scopriamo in questo numero Baxter Stockman ancora Non lo sa Perché quando lo vediamo A colloquio Con il generale Krang La parte centrale Che mostra il cervello Il vero Krang È coperta Quindi Baxter Stockman sa di avere a che fare Con un essere davvero spaventoso Che ha dei luogotenenti fatti di roccia Però non sa di preciso con cosa ha a che fare La base è semi sguarnita Perché Raffaello e Michelangelo Vanno a fare un giro per la città E vanno a ordinare le pizze Michelangelo presenta a Raffaello Woody Il fattorino della pizza Che ogni tanto Le lascia passare Una pizza gratuita a Michelangelo E non fa troppe domande Sul loro aspetto fisico Mentre alla base Restano Leonardo e Donatello Le persone un po' più sagge Diciamo Dei quattro fratelli Che discutono Hanno una fantastica discussione Sul significato spirituale Dalle origini che le ha raccontato loro Il maestro Splinter nel numero scorso O nel numero tre se non sbaglio Stanno parlando appunto di come Leonardo Ovviamente ci crede Poiché lui segue una linea Molto spirituale Il suo stile di vita è molto spirituale Oltre al fatto che segue Quello che gli dice il maestro Quindi se il maestro gli dice Che questa storia è vera Lui ci crede Mentre Donatello è molto più scettico Lui ha bisogno appunto di prove empiriche Ha bisogno di toccare con mano Ciò nonostante Lascia a suo padre Al suo maestro Splinter E a suo fratello Leonardo Comunque il beneficio del dubbio Non chiude in quanto scienziato Non chiude totalmente una porta A questa ipotesi Davvero molto molto strampalata Per lui Per la sua mente Terrena e tecnica Ma è molto scettico Leonardo dice che Oltre a quello che ha raccontato Splinter Anche lui nei suoi sogni A volte Vede quella che è stata sua madre Nel Giappone feudale E quindi Sa che Splinter Non sta raccontando delle fregnacce Non se le sta sognando Quanto meno Vediamo che questo dialogo È interrotto dall'arrivo dei Mauser Lo storico arrivo dei Mauser Alla base delle Tartarughe Ninja Che distrugge le fogne In cerca appunto di Splinter E comandati da Baxter Stockman C'è un'altra sottotrama di Casey Appunto come dicevo Casey Jones e April Che iniziano a fare amicizia Quanto meno Casey paga le ripetizioni Che gli dà April Con delle lezioni a sua volta Di autodifesa Anche alla luce Dell'attacco Che ha subito April Nel laboratorio Della Stock Jen Fortunatamente Nel finale della storia Raffaello E Michelangelo Tornano alla base E possono Possono dare Manforte A Leonardo Donatello E Splinter Che stanno combattendo In casa loro I Mauser E si chiude così Con questo cliffhanger Che ci porterà Il numero 6 La settimana prossima Vi ha entusiasmato Questo numero? Vi ha incuriosito? Spero di sì So che sono difficili Da trovare questi numeri Quindi inizio a mostrarvi Anche un po' A sfogliare disegni In attesa che magari Non lo so Questa rubrica Prenda piede Panini Magari possa ristampare Questi fumetti Per chi li vuole Magari anche in altri formati Perché no? Anche in dei fantastici omnibus Perché no? Però appunto Le persone che lo leggono Sono davvero poche E quindi È anche difficile Stampare Queste cose A proposito Questo mese Dovrebbe uscire Il numero 51 Di Tartarughe Ninja Ma come sapete C'è C'è la crisi della carta In questo momento C'è proprio C'è scarsa Carta Da reperire Per poter stampare Per poter stampare Qualunque cosa Non solo fumetti Ed è per questo Che anche La mia rubrica Di Buffy Che doveva In cui dovevo parlare Di Buffy L'ammazzavampiri Questo mese Si sposta al mese prossimo Perché Uscirà al mese prossimo La decima stagione Di Buffy Dovrebbe uscire Il mese prossimo Anche il numero 51 Di Tartarughe Ninja Quindi Questa Questa sera Fumetti è davvero sfortunata Anche adesso Che aveva ripreso Una vaga regolarità È di nuovo Il ritardo Purtroppo Però noi continuiamo Approfittiamo Di questo ritardo Per recuperare Un po' Tutti i numeri Di cui non ho parlato Finora Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti